Ennesimo pareggio per il Bari del nuovo tecnico marino. L'ex tecnico di Crotone e Spalopta un piramidale 4-3-2-1, scegliendo Brenno tra i pali, linea difensiva a 4 con i centrali di Cesare e Vicari a supporto dei terzini d'Or Valerici, Maiello siede in cabina di regia a scandire i ritmi di gioco con le mezzali a Campora e Cauzaupias, sulla tre quarti largo al tandem Aramo e Sibilli, in attacco tutto il peso è sulle spalle di Dio. Paolo Bianco risponde con il 4-3-1-2, Gagno rimane confermato a difesa dello specchio, retroguardia composta dalla coppia centrale Zaro-Cauza a sostegno degli esterni difensivi Cotali e Ponzi, a centrocampo scelto Gerli a presidio della mediana supportato da Palumbo e Magneno, in zona di tre quarti spazio alla tecnica di Tremolada, in zona offensiva scelto il tandem Bonfanti Abiuso. I primi 45 minuti hanno evidenziato una gara inizialmente dura dal punto di vista agonistico, con numerosi contrasti fallosi, rivelando determinante l'intervento deciso del signor Volpi che estrae due ammunizioni e mantiene gli equilibri. Poche le occasioni davvero insidiose di questo equilibrato primo tempo, unica tegola del match è la prematura uscita dal campo di Maiello a causa di un infortunio. Al 72esimo Sibilli sblocca il risultato. Azione che parte dall'iniziativa di Gennaro Acampora, che apre il campo per il proprio numero 20, poi l'ex Pisa elude la marcatura di Cotali, che è ammonito e non può intervenire, e dai 20 metri fa partire un forte rasoterra che si insacca alle spalle di Brenno. Bari in vantaggio, assista cura di Gennaro Acampora. Il vantaggio dura poco perché a 7 più recupero dalla fine arriva il pareggio modenese, a siglarlo e Jacopo Manconi. Prima rete in maglia giallo-blu per il subentrato, che trasforma con precisione la chance da palla inattiva. Dopo 5 di recupero, Volpi manda i titoli di coda di una gara dai ritmi altalenanti, conclusasi con un equo pareggio.